Le tradizioni pasquali in Sicilia è l'evento didattico promosso questa mattina in diretta streaming dallo Sturzo Lab, presso la sede dell'alberghiero, diretto da Rita Cardamone. In rispetto delle direttive ministeriali per la gestione della pandemia in corso, docenti a luni hanno raccontato gli indirizzi del plesso di cantina sociale, presentando e realizzando dolci isolani tipici del rituale pasquale. Le cucine hanno sfornato le uova capaci con le loro decorazioni di raccontare arte e tradizioni, con l'obiettivo di riuscire a risvegliare nelle future generazioni la capacità di cercare l'essenzialità nei valori. I ragazzi oggi presenteranno i loro capolavori che sono delle uova di Pasqua decorate tutte a mano, fatte interamente da loro, quindi racconteranno anche come avvengono questi lavori in cucina, ci saranno delle dirette, ripeto, su Youtube e si vedranno dei quadroni, ognuno dei quali racconterà una storia, racconterà un laboratorio. Faremo vedere nel frattempo anche i lavori che sono stati realizzati sempre online dai ragazzi fino ad ora, ne abbiamo fatte tantissime cose meravigliose, sia in cucina che in sala che nel reparto accoglienza. Nella pratica noi cerchiamo anche di fare acquisire competenze anche culturali, sociali e civili, quindi noi utilizziamo i laboratori perché loro diventino dei bravi professionisti ma soprattutto diventano anche dei cultori della loro professionalità. Oggi abbiamo montato proprio le nostre telecamere per fare vedere all'esterno quello che loro stanno realizzando. Allora, qualche uovo lo doneremo, alcuni ragazzi hanno il piacere di sorteggiarselo e quindi anche loro vogliono partecipare. Certo, non potevamo fare le uova per tutti i ragazzi, però qualcuno a casa lo porterà. La diretta di circa un'ora ha permesso di esplorare i laboratori dell'Istituto Alberghiero. Responsabile del progetto di rilancio della scuola nel territorio in sicurezza è Paolo Armando Grimaldi. La responsabile artistica Milena Scudera, la coordinatrice Mariella Sbirziola. Oggi faremo vedere le specialità pasquali, faremo vedere la colomba, l'uovo di Pasqua e anche dei piatti, sia dei primi e anche dei secondi. Faremo vedere anche la preparazione della pasta fresca oppure di qualche dessert, tipo dei bignè anche caramellati. I professori Giovanni Buttice, Salvatore Maganufo, Salvatore Laiola hanno seguito i dettagli della preparazione in cucina e la realizzazione delle uova pasquali. Penso che sia un'occasione per far conoscere la nostra scuola, per far vedere quello che facciamo, quello che siamo, quello che vogliamo diventare e penso che sia un modo anche per crescere, per divertirci noi e migliorare le nostre competenze anche per questo. E' toccato al responsabile di sala, il professore Angelo Brancato, coordinare la sua brigata per riuscire a mettere in campo le nozioni apprese in aula. Parleremo principalmente del simbolo della Pasqua, cosa l'uovo di Pasqua principalmente simboleggia, parleremo della tradizione e aggiungeremo anche quello che sarà la colomba siciliana nostra, tipica nostra. Avrò il ruolo di mostrare e condividere il significato della Pasqua e cosa si celebra normalmente ogni anno attraverso quello che è il gesto di regalare un semplice uovo di Pasqua, quindi oggi il tema principalmente sarà quello.